Hello, here is Rangu. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Di solito andiamo alla Steakhouse per ordinare la bistecca di controfiletto sul menu. Infatti, si riferisce a questa parte del filetto di manzo. Si dice che sia il più alto grado di manzo. Il controfiletto ha un forte sapore di carne senza molta marinatura. E la succosità in bocca fa emergere tutto il sapore della carne tilde. 10. Fili. Qualità della carne. Più carne magra. Fiori relativamente meno oleosi. Come si mangia. Bistecca. Fritto. Il filetto si trova all'interno del longo di manzo. È il nome straniero del filetto di manzo. In parole povere. Filetto di manzo filetto. Ricorda A. Il filetto è la parte premium che può competere con il controfiletto e l'occhio. Ed è il pezzo di manzo più morbido e tenero. Con più carne magra e relativamente meno grasso. Se si vuole mangiare il miglior filetto mignone. Basta cucinarlo dai 3 ai 5 anni. Perché il suo colore tenero e succoso è sufficiente per conquistare le papille gustative. Ricetta consigliata. Affettato di manzo con pepe verde. 11. Bastoncini di cetriolo. Consistenza della carne. Grossolana e dura. Metodo di consumo. Alla griglia. Fritto. Il grande cetriolo si trova all'esterno della zampa posteriore. E la carne è lunga e larga. La fibra della carne è più spessa. Tagliata in piccoli pezzi e marinata con albume d'uovo. Farina cruda. Sale e pepe. Infilzata e grigliata è abbastanza deliziosa. E il contenuto di grassi è molto basso. Per quelli di voi che vogliono perdere peso. Questa è una scelta sbagliata. 8. Piccole strisce di cetriolo. La carne è relativamente spessa e dura. È meglio trattare con i tendini o usare un martello da bistecca per battere in anticipo per allentare le ossa e le ossa. E poi cucinare a. 12. Tendine posteriore. Consistenza della carne. Carnosa e leggermente dura. Metodo di consumo. Stufato. Salamoia. Il tendine posteriore del manzo ha una membrana di carne avvolta intorno. Con i tendini all'interno e meno grasso. Suggerisco che la gente. È possibile utilizzare un modo di cottura bassa e lenta per affrontare questa parte. Per portare brasato o nella zuppa. Renderà il gusto della carne del tendine posteriore più morbido. Inoltre. Il tendine contenuto nel tendine posteriore del manzo può produrre una consistenza gelatinosa più ricca attraverso la salatura e la stufatura. Che è fragrante e saporita tilde. Scherzi a parte. Dopo aver scritto questo pezzo. È l'ora di pranzo punto. Sono stato inviato alcuni affamati non vogliono. Sempre gnocchi casa che alleggiava un odore di manzo. Non so se questo è vero per voi. Tuttavia. Guarda il mio lo cuace così tanto. Ancora voglio chiedere a voi ragazzi. Di solito l'amore per mangiare quale pezzo di manzo. O quale metodo delizioso. Lasciare un messaggio per dirmi. Prendiamo l'esperienza di ogni altro A N G tilde. If you are interested in our videos, remember to follow us. Ron Good, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.